In questo momento mi sento chiaramente distrutto, molto triste per quello che è successo, però c'è la speranza di poter dire che il GLA è vivo, io ho ancora fiducia. Ma c'è una speranza secondo lei, una flebile speranza che tutto si possa ricomporre, si possa andare la domenica allo stadio a tifare i colori biancazzurri? Sì, io spero che, a parte di tutte le vicissitudini, io spero che il GLA continui, questo è un grande percorso importante, noi siamo gente di passaggio, un allenatore, un giocatore, però il GLA dei Gelesi della città, tutto questo mi dà grande tristezza dentro, anche perché dopo due anni questo è il terzo anno, è chiaro che ti leghi in maniera affettiva anche alla gente ed è giusto vedere questa gente, insomma, chi soffre e chi sta soffrendo per tutte le vicissitudini legate alla quotidianità, insomma, darci pure questa mazzata, sinceramente, insomma, non l'accetto. Al campo sportivo è un'occasione proprio dello spareggio, noi definiamo spareggio per conquistare la Serie D, c'erano 5-6 mila spettatori, però poi, dati oggettivi alla mano, soltanto in 32-33 si abbonano, cosa succede allora? Eh, questo potrebbe essere anche, diciamo, un sasso nella scarpa di un Presidente, perché penso che magari si aspettava qualcosa di più, che la città rispondesse in una maniera diversa, sotto anche l'aspetto della sponsorizzazione, sull'efficienza dei lavori che devono essere effettuati allo Stadio, insomma, penso che siano state una serie di cose poterlo fare decidere a prendere questa decisione drastica, però a questo momento penso che sia l'unica persona condannabile, su questo non sono d'accordo, perché penso che c'è un uomo, c'è una moralità, c'è un'intelligenza, io penso che negli anni è stato uno degli artefici, diciamo, lui e la sua famiglia portare avanti questo progetto di gelacalcio, senza aiuto di nessuno, è chiaro che in questo momento anche lui è tringerato da questa situazione, io penso che conoscendolo è una persona molto sensibile, penso che si alza la mattina e prenda questa decisione, sotto sotto c'è stato qualcosa, insomma, che ha scaturito questa sua decisione. Ecco, e secondo lei cos'è accaduto? Al di là dell'inadeguatezza dello Stadio Presti, quei lavori non sono congiati al campo sportivo, come dicevamo, del mancato appeal degli sponsor, di un mancato contributo a livello di abbonamenti, c'è qualcos'altro secondo lei? Si sarebbe aspettato che qualcuno magari si avvicinasse con un entusiasmo, cercando magari di portare degli sponsor e poter avere un aiuto, diciamo, a questa società, che questo non è avvenuto, insomma, sinceramente anche questo l'ha fatto riflettere, non si vuole prendere impegni per poi non mantenerli, su questo voglio giustificare che una persona sana è una persona corretta. Per lei rimarrà a Gela, legato al Gela Calcio, fin quando ci sarà, come lei sottolineava, ancora una flebbi e le speranze. Sì, sinceramente sì, inutile, io non faccio lo schettino della situazione, non lo sono mai stato, mi assumo tutte le mie responsabilità, con l'occasione chiedo scusa alla città, anche perché sono allenatore, però devo anche tutelare un gruppo di 22-23 ragazzi meravigliosi, che anche se sono andati via, sono andati via con le lacrime agli occhi, questo significa che avevano un grande attaccamento colori sociali, che volevano fare qualcosa di importante per questa città, io sono molto legato alla città, ma nello stesso tempo è giusto che debba anche chiedere scusa e se non sarò più la natura leggera colgo l'occasione per salutare a tutti, se siete bravi, insomma, diciamo in questi anni a portare acqua nell'oscesso molino con delle critiche, diciamo giuste, oculate, con una saggezza importante, però volevo anche dirvi che essendo che siete voi che comunicate con la gente, c'è un messaggio importante, il calcio è importante come tutti gli altri sport, io penso che fare morire la gente dentro perché non ci dai più il calcio la domenica in quell'ora e mezza, due ore di svago, insomma, è un'ingiustizia, io spero che, ma anche se il truccio va via, credo nella capacità della gente di Gela, insomma, di creare una cordata importante per poter rilevare questa società e continuarla a portarla avanti come è stata portata negli ultimi anni con grande lustro, con grande chiarezza, o sono vivo allenatore o non sono vivo allenatore e auguro al genere le cose più belle della vita.